Vediamo la linea qui dalla sala streaming dell'Investing Napoli, abbiamo sentito questo ultimo intervento di Tony Ciolipigani, non so se si vuole fermare un attimo a fare qualche considerazione con noi e poi ci avviamo a quella che è la chiusura di una giornata dove si è parlato di certificati di investimento e di altri prodotti finanziari. Allora Tony hai fatto un'affermazione abbastanza forte, cioè hai detto tanto vale comprare il BTP rispetto al Bund perché se salta ovviamente li saltasse, speriamo di no, l'Italia si porta dietro tutto il resto del mondo e sicuramente i paesi dell'Unione Europea, però a quel punto lo spread perché è ragione di esistere secondo te? Ma io questo discorso qui lo faccio da tantissimo tempo, lo spread intanto sta scendendo, non è che lo faccio adesso perché lo spread sta scendendo di tantissimo e poi noi italiani guardiamo il nostro spread, ma se voi andate a vedere lo spread della Grecia, lo spread della Spagna, lo spread del Portogallo, la Grecia era 80, noi siamo a 120 e qualcosa, la Grecia è 80, la Grecia l'anno scorso era 200 con noi che eravamo a 180. E gli spread, finisco, perché c'è questo calo dello spread? Perché è brava la Miloni? No, perché è bravo? No, perché c'è un po' di crisi della Germania, specialmente nell'appeal del suo debito pubblico, un pochettino, ma semplicemente perché secondo in molti e secondo anche me l'Europa è obbligata a arrivare a una condivisione di debito, adesso se ne parla meno attraverso ad esempio l'esercito europeo e lì devi fare delle spese condivise, la difesa, e poi attraverso la transizione energetica, vogliamo fare quella digitale, la rivoluzione digitale europea? E queste sono spese, c'è stato Draghi un mese fa che ha detto noi abbiamo bisogno di 500 miliardi all'anno per questi tre obiettivi e questo lo dobbiamo fare in maniera condivisa perché sono interessi europei e spese comuni, quindi se si va verso una condivisione del debito evidentemente lo spread da molto meno senso. E quindi questo lo dico, ma queste affermazioni le facevo già cinque anni fa. Allora, rimanendo in ottica anche investimenti, c'è stato un rialzo pesantissimo dell'oro, qualcuno dice che sono le banche centrali che comprano. Certo è che vediamo uno scenario geopolitico abbastanza complicato ed è certo anche che molti portafogli di investimento americani sono costruiti con dentro l'oro proprio per mitigare le fasi di discesa dei mercati. Allora, quel rialzo dell'oro, quanto secondo te è figlio di un pericolo terza guerra mondiale? Perché tra l'altro le dichiarazioni dal punto di vista politico sono state abbastanza pesanti. Macron che ha detto che ci vogliono i soldati, la von der Leyen che ha detto teneteci pronti, addirittura esiste un piano europeo che è stato lanciato alcuni giorni fa di preparare la popolazione civile alla guerra, non vorrei che fosse come il piano, diciamo così, pandemico, eccetera. Allora, secondo te quel rialzo dell'oro di che cosa è figlio? Beh, dire che perché le banche centrali acquistano, sono i big player le banche centrali, quindi è molto ma molto probabile che... È probabile secondo te. È molto ma molto probabile. Però c'è un maggior appello... Però sarebbero le banche centrali extra G7. Esattamente. Però, secondo me, e questa è un'interpretazione del tutto anche discutibile, secondo me c'è una crisi di appeal delle obbligazioni per l'eccessivo indebitamento in progressione che stanno facendo in particolare gli Stati Uniti d'America, in particolare, particolare, gli Stati Uniti d'America. E anche tutti i paesi occidentali, ha compreso la Germania che prima era molto virtuosa, ovviamente la nostra Italia e via gli altri paesi, la Francia. Stiamo andando a un passo progressivo importante, quindi le obbligazioni dei debiti sovrani sono rappresentative di debiti che è uno schema Ponzi oggettivo, perché sappiamo tutti che l'America non ripagherà mai i suoi 33.000 o 34.000 miliardi e si sta cercando di spostarsi gradatamente su un asset che storicamente è importante, non è valuta, non è carta, che è l'oro. E io assimilo questo discorso al di fuori del discorso degli ETF sulle criptovalute, ma in qualche maniera la voglia di diversificare sulle obbligazioni si effettua, si capisce benissimo perché cos'è che va di moda adesso? Le altre cose, va di moda. Le obbligazioni non le vuole nessuno, invece vogliono le criptovalute, l'oro e le azioni. Oggi le azioni sono considerate più bene in rifugio che le obbligazioni. E abbiamo detto tutto. Senti, ti faccio una terza domanda. Secondo me non è un caso che oggi hai fatto uno speech sulla diversificazione. Abbiamo visto tra l'altro diversi tuoi interventi sui social network. A proposito, credo che state organizzando un grande evento sugli investimenti. C'è un grande evento sugli investimenti. Il nostro amico Pietro Arricciati, prima faceva il responsabile del desk di Active Trades, adesso è consulente finanziario indipendente. Il nostro amico Edoardo Fusco Femiano, prima era in Etoro, adesso faceva il trader e adesso fa il consulente finanziario indipendente, ha aperto un SCF. Il nostro amico Guido Giannaccari, prima faceva la trading room room, ma la continua a fare, ma adesso è amministratore delegato di una SCF. Il trading ha le carte in regola, secondo te, per poter, perché poi è stata sempre una finanza di popolo quella del trading, non una finanza ricca, diciamo la verità, di Goldman Sachs, JP Morgan, eccetera, ma è una finanza di popolo. Il trading, secondo te, ha le carte in regola, può essere una nuova frontiera, quella degli investimenti, di parlare di investimenti, di portafoglio, eccetera, perché si era sempre detto alle manifestazioni, questo è trading per gli investimenti, cioè avete sbagliato manifestazione, non c'entra niente con noi e gli investimenti. Fa fatica il trading, fa fatica. Io per me fa fatica, io ho tanta esperienza anche di queste manifestazioni, ho partecipato a tutti gli investing da quando esistono gli investing, quindi fa fatica, fa fatica, fa fatica... Perché molti si fanno male, perché molti si fanno male anche, quindi tu non lo consigli all'amico, diciamo. No, 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 io non lo consiglio all'amico, e poi è fisiologico anche io pensare a qualche cosa di più agli investimenti, anche l'età, la fatica, eccetera. È un fatto generazionale. È anche una questione di età. Insomma, come quando fai l'attaccante, poi magari retrocedi a centrocampo e finisci a fare l'allenatore, diciamo, il concetto è questo, anche se poi, anche oggi, insomma, sono sempre col trading e col mouse in mano. Però sicuramente ha una comunicazione, il trading ha questa capacità di comunicazione col popolo che la finanza quella non ha mai avuto, quella finanza dei colletti bianchi. Allora, diciamo che il trading attacca di più, è più affascinante, viene illuso molte volte con dei messaggi sbagliati, l'intervento che ho fatto stamattina verteva anche molto su questo, cioè viene riconosciuto talvolta troppo che ci sono delle tecniche perfette dove è impossibile non vincere tramite il segreto. Ecco, si crede ancora purtroppo al sacro graal, chi è inesperto si convince, l'inesperto che si possa guadagnare tramite uno studio attento, un'attenzione, monitorando il tutto, e poi di fronte alla realtà non è così semplice come viene insegnato. Il trading è difficile, è veramente passione, 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 mindset e in parte anche tecnica. Va bene, fa piacere vedere a quest'ora la serata che c'è ancora gente che invece... Anche le più importanti. Eh no, invece che diminuire stanno aumentando i collegamenti. Abbiamo fatto 7.000 visualizzazioni. I collegamenti stanno aumentando... Mi massacreranno. Stanno aumentando i collegamenti, quindi fa molto piacere, però la chiediamo qui. Grazie a Tonicio Le Puviane, non so se vogliamo chiudere con un... Io ringrazio Pietro, ringrazio Pietro che mi ha dato... Oggi questo evento è stato straordinario perché mi ha lasciato l'aula più importante la mattina, il pomeriggio, la cosa... E qui c'è... Nonostante tutto, con coraggio noi diamo spazio ai più bravi. Grazie. Allora, grazie Giuseppe anzitutto, grazie a chi ci ascolta, mi dicevi che c'è stato un grande ritorno. Ci sono 172 messaggi che sono arrivati. Caspita, grazie, evidentemente questa finestra digitale ha senso, io volevo semplicemente ringraziare anzitutto Michele e Cristian che sono alla regia, ecco, e sono stati in gamba come al solito, ci seguono ormai da molti anni, e quindi un ringraziamento ai tecnici, un ringraziamento a Giuseppe. Grazie a voi. Che è stato una colonna come al solito. A chi ci ascolta, appuntamento a Investing Roma l'11 ottobre, spero che saremo tutti di nuovo insieme, spero che per te Giuseppe sia stata una buona esperienza, e continuiamo così. Io sono bello carico, credo che abbiamo dato contenuti di qualità, sia nella parte fisica, sia nell'online. Gratuiti, tra l'altro. Gratuiti, quant'altro ringraziamo però anche chi è alle nostre spalle. E viva lo sponsor, sempre. No, e viva lo sponsor, ma secondo me in maniera altruistica, sai, venire ogni tanto al sud fa bene, anche per dare soddisfazione ai propri clienti, per dare un viso dietro un brand, che secondo me è fondamentale. Gli eventi fisici, come sai Giuseppe, sono un po' in crisi, perché ce ne sono pochi ormai e si fa fatica. Però noi non molliamo, anzi questa è una bella carica di energia, a me mi ha molto, sono stanco fisicamente, ma molto carico. È un'altra roba il fisico. Mi fa piacere anche tu, sei allineato, so che anche Tony la vede così, e quindi due pareri autorevoli come voi, insomma, fanno bene. E quindi appuntamento a... faremo altre cose, ci sarà l'Investing Masterclass il 12 aprile con Giuseppe Loria, quindi rimanete su questi schermi, perché noi siamo sempre qua con l'obiettivo unico di fare gruppo, fare squadra, con l'idea di aumentare la cultura finanziaria di tutti noi. Quindi grazie a te Giuseppe, ti lascio la... Grazie, non resta altro che salutarvi, e darvi l'appuntamento quindi all'Investing Napoli, che ci sarà... l'Investing Roma, che ci sarà? 11 ottobre. 11 ottobre. Buona serata.